Sì, viva il ciugno, la seconda è il ciugno, è il ciugno dove? Cambio il mano dietro, ok? E che so, come te, come te? C'è un'altra, sotto, e... Sotto, su, che le volumi che stanno calentando, signore... La seconda, vai e viene! Cambio il ciugno! E ci sta basta! E' un'altra, faccia! 1, 2, 3, con carico di alto testo, 5, 6, 7!